buongiorno ragazzo oggi è sabato è una giornata stupenda eccola qui c'è lo stupendo e praticamente volevo dare una rapida ristretta non ci fate caso i capelli perché l'ho lavati ieri l'ho lasciati praticamente asciugare così come sono io non l'ho neanche pettinati lo faccio dopo che con un casotto e praticamente volevo dare una rapida pulita perché oggi pomeriggio visto la giornata stupenda dopo almeno due settimane di maltempo volevo andare a fratte rosa che è una bellissima un bellissimo paesino che sta qui vicino e praticamente fanno sia oggi che domani la festa delle fave e delle guide e quindi volevo andarci c'era già stata praticamente quest'inverno però pioveva era brutto non è che ci siamo stati poi non mi ci sono fermata più di tanto e quindi ho detto no vabbè colgo l'occasione e ci vado e ci vado oggi quindi vi porto con me intanto do una ristretta veloce ci vediamo dopo ciao 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 allora ho preso anche la rivista vegetariana qui in edicola e ho voluto fare per pranzo questi spaghetti pesto menta e zucchine eccole qua solo che i spaghetti le avevo finiti e per cui cui ci mangiamo i fusilli. A dopo! Grazie a tutti! 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 Questa è il pecorino puro, all'interno della paventia di fratelli e il peperoncino e il piacchietto serranico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Andiamo a mangiucchiarci qualche cosa, anche se è abbastanza presto, però è già tutto aperto sopra tutti gli stand. Andiamo a mangiucchiare! Andiamo a mangiucchiare! Andiamo a mangiucchiare! Andiamo a mangiucchiare! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Andiamo a mangiucchiare! 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 No, non l'ho visto. Sono rimaste qui del fine. Esatto, sì. Allora, diamo il primo voto. Organizzazione. Quindi organizzazione intendiamo gestione della fila, del parcheggio, la facilità con cui si arriva al paese anche con tutte le indicazioni che si trovano per strada, servizio e tavoli qualora ci fosse. Insomma, questa è organizzazione. Vai, prima tu, che voto? Ma guarda, gli direi un bell'otto. Otto, pure io. Sì, un bell'otto, sono stati bravi, sì. Sì, funziona che praticamente si fa lo scontrino in cassa e poi si va praticamente a prenderlo al, avevano diviso due cantine, praticamente avevano allestito e quindi da una parte appunto si prendeva pasta, bruschetta, tutto quanto e dall'altra la carne. E poi c'era la terza che invece si prendeva da bere, quindi no, organizzata, fila l'hanno gestita benissimo, quindi io do otto. Sì, otto anch'io. Pure molto puliti, pure molto puliti, sì. Sì, puliti e gentili. Ok, allora, punto, punteggio invece per il menù, quindi menù si intende la scelta del menù, quindi quante cose insomma c'erano, pasta, secondi, contorni. Sì, quanto gli diamo? Dicei, direi un altro bello otto. Otto? Forse pure otto e mezzo. Otto, sì. Allora, io considerando che, allora, c'erano praticamente due primi, un antipasto che era con le bruschette, poi c'era, mi sembra, due contorni, un contorno. No, un secondo e due contorni, poi le patatine. Sì, diciamo che io gli do sette. 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 Prattinente, secondo te, il menù con la festa? Eh, parecchio, parecchio, perché c'era praticamente, in merito ovviamente alle fave, c'erano, tra le bruschette che erano miste, c'era pure la crema di fava. E poi c'erano i tacconi al ragù, che appunto i tacconi sono una pasta lunga 20-25 centimetri fatta ovviamente in casa, con all'interno farina normale e farina di fava. E poi c'erano le conchiglie con le fave, sì, al sugo di fava, che non so se erano in bianco però. No, non lo so. Non lo so. No. E poi c'erano praticamente le fave, le famosissime fave in porchetta, che io le ho assaggiate l'anno scorso, una cosa straordinaria. E poi c'era la piadina, la piadina fatta un po' come i tapponi, quindi fatti con la farina di fava. Quindi no, la scelta in base al protagonista, che era appunto il baccello di fava, no, assolutamente attinente, sì. Poi anche i prodotti nel... Sì, anche il mercadino era molto carino perché alcuni erano di Pergola, alcuni di qua, però no, era molto carino. Pochi, però giusti, quindi locali, no, perché a volte quando si va per queste sagre, a volte, no, a volte, spesso si trovano quelli con 300 caramelle, no, tutti... Stai nelle Marche, i prodotti migliori della Calabria. Della Calabria, della Puglia, cioè sono nelle Marche, voglio assaggiare il prodotto di qua, no, poi vado in Puglia, voglio assaggiare il prodotto della Puglia, non marchigiano, quindi evidente. No, quindi attinente, sicuramente sì, quindi comprensivamente io come menù, come scelta sette, tu otto. Sì, sì, otto, è buono, è buono. Ultimo qualità di cibo, quindi la bontà. No, era veramente, liberamente dieci. Sì, dieci pure io. Dieci, veramente, sì. Dieci, sì, assolutamente. E poi c'era anche il prezzo che, diciamo... Beh, il prezzo nelle sagre è molto più economico, no, perché comunque c'hai il servizio... Insomma, fai da te, no, quindi invece ti fai la fila, ti prendi poi il piatto e quindi poi te lo porti al tavolo. A volte non esci subito, qui l'attesa non c'è stata, c'è stata veramente cinque minuti, neanche. Cinque minuti e poi abbiamo speso pochissimo, sono alla fine, no? Eh, sì, sì. Veramente è una sciocchezza. Sì, più o meno si sta intorno ai quindici euro a persona, considerando un antipasto, vabbè, io l'ho preso... Io non amo molto la carne, quindi io ho preso l'antipastino di bruschetta e ho preso le fave in pulchetta, che vabbè, quelle che è troppo buone. Però più o meno, ecco, si sta intorno ai quindici euro. Ma la sagra è tutta, è la festa, insomma, che c'è attorno, le persone, le persone del posto che comunque cucinano e c'è una cultura dietro la sagra, no? Non è solamente una festa così sempliciotta. Io sarai che ci sono cresciuta con le sagre, quindi ci sono particolarmente affezionata tra i miei nonni paterni, ecco, papà e mamma che come arriva l'estate le sagre ci radunano e quindi le trovo fantastiche. Quindi, voto complessivo per tutti i sacronauti in ascolto, voto complessivo che poi non è la sagra proprio di Fratte Rosa, ma è una frazione di Fratte Rosa che è Torre San Marco, che sta a circa 6 km da Fratte Rosa. Però vi consiglio il pomeriggio di andare a Fratte Rosa, che è bellissima, troverete anche un sacco di negozi sulle terracotte, che sono stupende le terracotte qui. E poi venite qui, insomma, a mangiare la sera, cioè pure domani, quindi. E che altro? Quindi voto complessivo. 8, 8 e mezzo. Sì, 8, 8 e mezzo. 8 più. 8 più. 8 più così il prossimo anno si migliorano ancora di più. 8 più, 8 più. Ciao ragazze. Ciao. Buona serata.